Il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, ha consegnato le medaglie d'onore alla memoria ai familiari di due cittadini della provincia di Napoli, internati in Germania, dal 1943 al 1945. La speciale benemerenza è prevista dalla legge 27 dicembre 2006, numero 296, per rendere onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Sono stati insegnati delle medaglie Raffaele Capasso, militare dell'esercito italiano, internato in Germania dal 1999-1943 all'85-1945, e Michele Spinelli, militare della Marina, imbarcato su una nave ospedaliera militare che fu catturato a Cefaloni all'11-9-1943 e deceduto in un campo di concentramento a Mepenemsland il 9-4-1945. Anche i discendenti di queste persone hanno titolo a ricevere questa distinzione, questo segno di distinzione e di onore che deve perpetuare nelle nuove generazioni di cui loro stessi fanno parte la memoria di quegli anni, sempre come un severo monito a che le cose passate devono non ripetersi. È importantissima la giornata della memoria perché deve essere un esercizio di resistenza e di rafforzamento alla democrazia per scuotere le coscienze, certe volte anche un po' narcotizzate dei nostri tempi. Fu mandato nel fronte greco-albanese e nel 43 settembre fu catturato dai tedeschi a Tirana e poi fu inviato in Germania. Gli è stato fino al giugno 1945, dopodiché è rientrato in Italia. Ho internato nei campi di concentramento nazisti dopo essere stato catturato a Cefalonia in Grecia, imbarcato sulla nave militare ospedale. Poi successivamente, amatoci di tubercolosi, fu inviato in un campo ospedaliero dove venivano inviati a morire quelli che non erano più in grado di lavorare o di servire ai nazisti. Morì pochi giorni dopo la liberazione del campo e fu seppellito a cura dei cappellani militari italiani. Tragedia familiare accardito nel napoletano dove un bambino di 7 anni è stato trovato morto e la sorellina di 8 anni è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santo Buono di Napoli in gravi condizioni. Le indagini della Procura di Napoli Nord, coordinate dal procuratore capo Francesco Greco, hanno portato al compagno della madre dei due bambini, Tony e Sob di Breda, 24 anni, nato ad Acerra da padre tunisino e madre italiana. L'uomo che ha precedenti di polizia per scippo e droga è stato interrogato tutta la notte, poi questa mattina all'alba il PM Paola Izzo ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di fermo. Omicidio volontario aggravato e tentato omicidio aggravato sono i reati contestati. Nel pomeriggio di ieri una volante del commissariato di Afragola è arrivata in via Marconi Accardito, avvisata dai vicini per una lite familiare in corso. Quando sono entrati nell'appartamento i carabinieri hanno trovato il corpo del bambino riverso sul divano, la sorellina con il volto tumefatto. Decisive ai fini della ricostruzione sarebbero state le dichiarazioni rese ai medici del santo bono dalla bambina che avrebbe descritto l'aggressione subita dal compagno della madre. La coppia viveva accardito con i due figli che la donna aveva avuto da una precedente relazione ed un figlio di quattro anni illeso. Sul movente gli accertamenti degli investigatori sono ancora in corso, l'autopsia e gli accertamenti della scientifica forniranno ulteriori elementi di indagine. Bagnoli, una lunga travagliata storia, ma quale futuro si prospetta? Che tempi per la bonifica agognata? Se ne è parlato al sabato delle idee, iniziativa del professore Marco Salvatore, presidente della fondazione SDN, tese a discutere di temi di attualità e lanciare proposte, hanno partecipato all'incontro che si è tenuto presso il circolo Ilva di Bagnoli tutti i protagonisti di quella che sarà la rinascita dell'area dell'ex Italcider. A confronto esperti, progettisti, le varie istituzioni, noi abbiamo invitato anche tutte le associazioni, speriamo che siano presenti per dialogare fra di loro. Non tutti sono d'accordo sui vari progetti che man mano vengono presentati. Io invito tutte le istituzioni anche a collaborare insieme soprattutto, ma ho l'impressione che non ci sia un dialogo molto stretto tra di loro, a collaborare tutti insieme anche con quelli che ritengono i loro peggiori nemici, ma pur di arrivare a una soluzione e far ripartire questo progetto di Bagnoli, che sicuramente non è un progetto perfetto, perché nessun progetto sarà mai perfetto, perché è sempre perfettibile in corso di opera. La bonifica di Bagnoli non è un problema di soldi, ma di tempi. Sul 60% del terreno interessato dunque si rischia di restare fermi ancora per anni, in attesa dei tempi della giustizia per il dissequestro delle aree. Lo ha sottolineato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Bagnoli oggi è bellissima, c'è il sole ed ogni volta che si viene cresce la consapevolezza dello scempio e della desolazione che ha vissuto nei 25 anni scorsi. In questi anni sono successe le cose che voi sapete e noi auspichiamo che ne possano succedere presto delle altre. Noi stiamo aspettando la concessione della VAS, pubblicheremo poi i risultati delle analisi di rischio e avvieremo la progettazione delle bonifiche. A stimolare il dibattito Ottavio Ragone, direttore della redazione napoletana di Repubblica. Il rettore dell'Università su Rursola Benincasa, Lucio D'Alessandro, immagina nei luoghi dell'ex Italsidere una cittadella internazionale di giovani studenti ricercatori. Ma ecco anche altre proposte per Bagnoli dal sabato delle idee. Qui in zona già ci sta la linea 2, ci sta la cumana con molte stazioni, ci sarà anche una stazione della linea 6. Il sistema più rapido, più economico, della gestione più economica è una monorotaia o una linea rapida, leggera, che può fare o un giro completo o anche un 8 e unire tutte le stazioni che dico e unire tutti i posti più importanti di quest'area, compreso anche la città dello sport o anche il CUS. Oggi sono emersi fino ad ora una serie di buone proposizioni. Io dico, noi a Napoli abbiamo un esempio attualmente in corso e attualmente in divenire, che è un esempio di rigenerazione urbana, quella di San Giovanni, una zona dove dieci anni fa nessuno avrebbe investito un euro, in cui facendo leva sull'alta formazione si sta verificando un fenomeno sotto gli occhi di tutti e che sta portando Napoli al centro della leadership mondiale nella produzione di competenze digitali. Quindi è un aspetto molto interessante nel nostro territorio da assumere come leva e Bagnoli potrebbe ripartire da un concept analogo. Intanto la prima e più importante è avere finalmente la valutazione ambientale strategica dal Ministero. Tramite questa Invitalia riorganizzerà tutti i documenti per avere i decreti ministeriali e dopo possiamo finalmente indire la cabina di regia e a seguire la conferenza di servizi. Avendo avuto il Prauro e la VAS abbiamo praticamente un documento che potremmo definire la Bibbia per Bagnoli in relazione al quale si potrà definire in maniera sequenziale o parallela quali progetti attuare. Una cinquantina di attivisti dei centri sociali hanno fatto irruzione ieri all'hotel Ramada di Napoli dove era in corso la seconda lezione della scuola di formazione politica della Lega per dirigenti della Campania del Sud. Le porte della sala sono state chiuse e i manifestanti hanno esposto alcuni striscioni sulla terrazza dell'albergo. A Napoli hanno detto i giovani dei centri sociali non c'è spazio per chi ha costruito la sua carriera politica prima con l'odio per i meridionali e poi per gli immigrati. Non dimentichiamo gli slogan colerosi terremotati. Sul posto è intervenuta la polizia in assetto antisommossa.